alzate i decine che vi presenta la banda ma davvero è... qui non c'è tutto, non c'è niente non ci sono campionamenti, non ci sono sequenze cosa c'è? non ci sono rosticcerie dietro non c'è niente che... polli, niente è tutta roba vera suoniamo davvero, chissà che si senti anche, no? allora ci sono da sistemare nel frittacolo di musica italiana dal vivo ecco, se io ci sentivo di una città farei un titolo così musica italiana dal vivo sembra niente in realtà e allora la banda al chiaroforte Carlo Gaudietto la batteria ha le percussioni Simone Talone alla bella stintità e al mandolino e al banjo Alessandro Valle alla chitarra il timido re delle chitarre di chitarra Paolo Giubenti e al basso un nuovo arrivato un ragazzo che ha fatto carte false per poter giocare con noi è giovanissimo quindi va incoraggiato il capopalla Guido Guglieletti un po' di tante e alla voce alla splendida voce Francesca Francesca Lacolla ecco la banda Lucica Italiana con l'unico grazie grazie